Oggi è l'ultimo giorno di quella che è stata la settimana dello studente a Licio Federico II di Svevia e per concludere appunto abbiamo avuto l'incontro del Presidente della Regione Bardi. Oggi abbiamo parlato di varie tematiche, i nostri studenti e i nostri rappresentanti, appunto noi rappresentanti, gli abbiamo posto alcune domande. È stato tanto trattato il tema della fuga dei cervelli, insomma, dalla Basilicata e dello spopolamento in generale. Pertanto appunto sono state convocate nella nostra Aulamagna le classi quinte che stanno appunto decidendo il loro percorso universitario, quindi c'è tutto il percorso dell'orientamento. Pertanto è stato molto trattato questo tema proprio per dare appunto importanza al nostro territorio. Oggi abbiamo avuto il piacere di avere qui nel Licio Federico II di Svevia il Presidente Vito Bardi e questa è stata l'ultima giornata conclusiva della settimana dello studente. Nelle giornate precedenti abbiamo avuto il piacere di avere altri ospiti, come ad esempio un ispettore della Polizia o anche la Croce Rossa di Melfi, appunto del territorio. Siamo grati al Presidente e a tutti questi ospiti per la visita che appunto sono venuti qui al liceo e molti ragazzi sono stati interessati, in particolare delle tematiche sulla sicurezza, sulla legalità e ciò ha fatto molto piacere ai giovani. Quindi ringrazio tutti questi ospiti per questa bella settimana che ci hanno potuto regalare. Inoltre il Presidente Vito Bardi ci ha anche parlato dei vari bonus che sono stati approvati appunto in Regione e tra questi ovviamente troviamo anche il bonus gas. Inoltre il Presidente ci ha tenuto a valorizzare moltissimo le varie risorse che ci sono nel nostro territorio, come ad esempio il petrolio, in quanto in Val d'Agri è presente l'attività petrolifica più grande d'Europa ed inoltre anche le grandi risorse di gas sono presenti in Basilicata. Infatti basti pensare che il gas estratto in Basilicata riesce a ricoprire l'un terzo di quello estratto in tutta quanta l'Italia.